La stessa della politica del profeta. Oggi in questa occasione noi vogliamo lanciare di nuovo messaggio di solidarietà, di affetto, di amicizia, di fratellanza verso i nostri amici e fratelli cristiani o di tutte le altre religioni. E oggi noi tutti insieme in questa piazza abbiamo visto che ci sono volate le bandiere dal Pakistan. Questo vuol dire una lealtà, una fedeltà con la nostra patria madre. E c'erano anche bandiere italiane. E questo voleva dire che noi siamo grati a questo paese che ci ha offerto l'ospitalità e che ci ha offerto benessere. E c'erano le bandiere di pace che indicavano che ormai tutte le anime sono stufe della guerra. Anche quelle che sono convolte fisicamente, lontano da qui, e anche noi in qualche modo siamo convolti. Economicamente siamo convolti in queste guerre. E quindi io voglio condannare le guerre preventive e le ripresalie continue contro i popoli che siano musulmani e che non siano musulmani. e voglio anche condannare e dico anche fermamente che kamikaze non rappresentano nessuna religione. E non sono fra di noi. E noi abbiamo sempre condannato e condanneremo sempre. Siamo contro la violenza. E qui c'erano bandiere di color verde che indicavano che quelli che magari non ci vogliono vedere qui in Italia almeno color verde ci accomuna con loro. E noi siamo molto speranzosi che in futuro andremo d'accordo anche con loro. E questo in questa occasione anche per loro voglio lanciare un messaggio di micissia di pace di fratellanza e questo anche in questa occasione io fermamente voglio invitare a tutte le religioni e tutte le tutte le anime di buon senso di condannare insieme a noi a colui che cerca di insultare a qualsiasi religione che sia l'Islam che non sia l'Islam. e in questa occasione voglio che siano fermati insulti continui contro l'Islam che ogni tanto qualche qualche stupido si alza e si mette a insultare l'Islam. Questi insulti non sono giustificati e noi condanniamo e condanneremo fermamente. Siamo musulmani è il nostro dritto di difendere la nostra religione e noi lo difenderemo democraticamente e civilmente e quindi io invito a tutti di condannare a quei passi di di fermare a quei passi che non vogliono la pace tra i popoli e vogliono creare l'ordilo e quello che sta succedendo in Olanda che è quel passo che vuole lanciare è filmato contro il profeta Mohamedo e contro il Corano noi condanniamo fermamente alzando le mani alzateci tutti i mani e fate vedere che noi siamo contro contro ogni forma di violenza e contro ogni forma di audio di racismo. io voglio ringraziare al forse dall'ordine e i nostri concittadini bresciani che pazientemente ci hanno supportato anche se è un diritto manifestare ma dico che ancora forse non sono tempi maturi tal modo che siano sfruttati fino a fondo quindi ringrazio forse dell'ordine e i nostri concittadini e li auguro nuovamente buona Pasqua e a noi ai nostri fratelli buona nascita del profeta e dico anche un messaggio per me concittadini e per me con nazionali anche se abbiamo certi diritti cerchiamo di non sfruttare fino a fondo rispettiamo le leggi e cerchiamo di essere buoni ospiti e quindi non pretendiamoci ancora le cose che magari come i tempi non sono maturi di chiedere e allora a tutti ringrazio di essere partecipato in questa bellissima progestione e all'anno prossimo Assalamuala 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti